Eccoci qua, sentiva delle contestazioni che i gentiloni ma anche altri fanno, laddove il Movimento 5 Stelle governa da cattività? Vabbè sta in campagna elettorale, gentiloni, io non commento gente in campagna elettorale che ha fallito dovunque, Roma hanno fallito l'ora, adesso lo sport principale è tirare fango addosso alla raggi, parlare più dell'albero di Natale, Spelacchio, che di Renzi che dava le soffiate ai Benedetti facendoli fare affari su affari, questo è ignobile per quanto mi riguarda, per cui gentiloni in campagna elettorale ma tanto prendono meno del 20%. Poi si è in campagna elettorale, finalmente si parla di un tema serio, quello dell'ambiente, no? Esatto Stasera se ne parla qua Esatto, qui stiamo a presentare proposte, noi abbiamo proposte, non siamo quelli che dicono che tolgono il canone quando l'hanno messo in bolletto o aboliscono il Gefornero che l'hanno votata, noi qui siamo a centinaia, forse migliaia di cittadini parlando di ambiente, parliamo di ambiente, di bonifichi in un territorio martoriato dalla mala politica e dalla camorra, dalla mala politica e dalla camorra, che spesso tra l'altro vanno a braccetto Parliamo di efficientamento energetico, parliamo di un ministero dell'ambiente che in un paese normale dovrebbe essere più importante del ministero dell'economia, perché grazie all'ambiente si dà lavoro, si dà salute, si dà futuro, si dà presente ai cittadini Cioè questo siamo, questo è il Movimento 5 Stelle, presentiamo programmi su programmi, scusate, state calmi, non so che siete arrabbiati, le persone sono arrabbiate perché sono mesi che facciamo proposte, poi uno sbaglia un tema, la consecuzio e sembra, non so, l'orrore dell'orrore quando questa gentaglia in questi anni ha votato leggi incostituzionali E ha non soltanto affamato ma rovinato la vita con la connivenza appunto della camorra e delle organizzazioni criminali a milioni di italiani Qua le persone muoiono di tumore, noi abbiamo in programma bonifiche serie e i soldi si trovano, oltretutto portano addirittura posti di lavoro le bonifiche in questo paese Sì esatto A proposito di soldi si trovano, molte delle proposte che si leggono in questa campagna elettorale, anche di Movimento 5 Stelle, presuppongono dei costi Ma dove escono tutti i miliardi per abolire il canone, per aumentare le pensioni? Su canone, dite a questi veramente mentitori seriali Per quel che concerne i proposti del 5 Stelle, sul reddito di cittadinanza abbiamo fatto coperture su coperture Sono anni che noi parliamo di aumento della testazione del gioco d'azzardo, oggi Renzi lo dice, che bravo Renzi parla di abbassamento della testazione del gioco d'azzardo Ma perché queste persone, queste robe non le hanno fatte quando hanno governato? Per quale motivo oggi promettono o promettono? Il 5 Stelle non promette, ha un programma, sono delle idee, delle proposte di legge già depositate Sul reddito di cittadinanza, anni, sono anni che parlo delle coperture I soldi si possono trovare aggredendo la corruzione in questo paese Se fate caso che il PD e Forza Italia non parlano di corruzione Ti credo che fanno, si arrestano da soli con una legge anticorruzione Grazie ad una vera legge anticorruzione si recuperano miliardi di euro in questo paese Perché tutte le opere, sapete, costano il triplo rispetto alla Francia, alla Spagna Aggredendo la corruzione si trovano risorse Poco a poco si mettono a disposizione i coloro che ne hanno maggiormente bisogno Delle persone che soffrono, appunto, muoiono ad ogni respiro Perché qua la terra dei fuochi, qua vicino, si muore ad ogni respiro E non se ne parla in campanita Perché? Perché non porta voti a parlare di bonifica No, non ce ne frega niente Noi vogliamo fare questo Vogliamo un'occasione, vogliamo un'opportunità Vogliamo realizzare delle idee importanti La legge sul conflitto di interessi Io quando votavo il PD e leggevo Repubblica Mi ricordavo quanto ce l'hanno menata col conflitto di interessi E poi è governato alla sinistra nel dimenticatoio questo tema È una vera legge sul conflitto di interessi Porta anche lavoro perché crea competitività Toglie il potere, appunto, accentrato in poche mani Queste sono delle proposte normali I vitalizi, i vitalizi ci hanno preso in giro Dicevano di averli aboliti e non li hanno aboliti E l'unica forza politica che può abolire i vitalizi è il 5 Stelle C'è uno di noi che si prende il vitalizio? Uno? Nome e cognome Uno del 5 Stelle si prende il vitalizio? No Per cui queste sono le nostre idee Chi ci sta, ci sta Però io lo dico ormai e lo sto dicendo dovunque Se vent'anni di Berlusconi e gli ultimi anni di quest'altro mentitore seriale di Renzi Non sono bastati per far comprendere agli italiani la pericolosità di questi soggetti Il problema non so più Renzi e Berlusconi Sono gli italiani Per cui gli italiani sveglia Un'ultima domanda Chiedo scusa Chiedo scusa signori Sul ruolo di Grillo nel movimento Si è detto fa un passo indietro Uno fa un passo all'altro Possiamo dare una prova definitiva Che cosa farà Grillo? È sempre il nostro garante Sta sempre Poi l'ha sempre detto che il Movimento 5 Stelle sarebbe andato avanti poco a poco con le sue gambe L'abbiamo dimostrato Anni fa si diceva Io me lo ricordo Perché la memoria ce l'ho Ah il 5 Stelle comanda soltanto Grillo Oggi ci sono tante persone che sono cresciute in questi anni in Parlamento Abbiamo un seguito Abbiamo dimostrato credibilità E poi Beppe è sempre Beppe Non soltanto il fondatore Ma l'anima del movimento è il nostro garante Per cui sta roba Grillo sta contro il 5 Stelle È l'ennesima fake news Di un sistema mediatico Che ormai preferisce Ripeto Parlare di un albero di Natale Che dei sindaci arrestati Magari per connivenza con l'Andrangheta Alcuni dei quali del Partito Democratico Ultima domanda Mentre ce ne andiamo L'accompagno in sala Mi volevo chiedere L'ultima cosa No Non ci può fare No no Ringraziamo allora Paolo Chiariello Ringraziamo Ringraziamo anche Alessandro